Previsione di bilancio per il Comune di Giulianova. Si parla ovviamente di quello che è un quadro di difficoltà economica, di riduzione di fondi da parte del Governo centrale. Cosa ha deciso di ridurre il Comune di Giulianova? Quest'anno abbiamo dovuto fare i conti con ulteriori 2 milioni e 900 mila euro di tagli, che quindi dovevano essere operati sulla spesa corrente. La grande soddisfazione che posso veicolare è quella che, grazie al lavoro della mia maggioranza, della mia giunta, in particolare dell'assessore alle finanze Katia Verdecche, noi non abbiamo ridotto neppure un servizio. A Giulianova rimangono inalterati e aperti due asili in minido interamente pubblici, senza diminuzione dei posti, quindi senza penalizzare le famiglie, senza penalizzare i livelli occupazionali. A Giulianova rimane inalterato il servizio di scuolabus senza aumentare le tariffe. A Giulianova non viene aumentata la Tasi. A Giulianova la Tari, che sul territorio nazionale, come abbiamo letto dai quotidiani nazionali in questi giorni, viene aumentata mediamente del 20%, non solo non aumenta, ma diminuisce. Diminuisce e i cittadini troveranno una diminuzione sulle bollette. A Giulianova noi abbiamo operato in questi anni, da buon padre di famiglia, riusciamo a ottenere questi risultati grazie a una programmazione. Tenga presente che quest'anno, dal 1 aprile a Giulianova, è operativo il gestore unico dei rifiuti. In Italia sono pochi i comuni che hanno fatto una gara e questo ci ha consentito di ottenere già nei primi nove mesi di questo 2015 delle riduzioni e soprattutto un aumento del servizio.